Apre! Sì, questa è quella piccante, a te. A te. Sì, questa è quella piccante, a te. I mal di testa sono peggiorati. I più frequenti mi riferiscono con la mia concentrazione, il mio somma, la mia esistenza. Sta prendendo i gabbatenti che ho prescritto, non l'è d'aiuto. Per l'esattezza i sintomi stanno peggiorando. Mi sta immediata, smemuratezza, dolore. Non è il risultato in cui speravo quando mi sono affidato alle sue cure. Non sono stato sincero. La vita della sindrome post-commozionale non è cosa di un giorno. Il suo cerco deve riprendersi, ci potrà volere più tempo. E questa sarebbe la summa del suo parere professionale. Aspettare e sperare del meglio. Ne ho vinto il disagio dei gabbatenti da 200 miliardi a 400. Poi gli ho proprio attenzione. Se questo non potesse bastare, potremmo avventare il disagio. Finché non...